Ci siamo! È duro! È duro! È in orbita! È un vissile! Sei partito vivo! Sei in aria vivo! Sei fuori! Io cago in vivo! Spera! 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 saremmo quattro assadanate pidocchiose che non hanno voglia di fare un cazzo benché meno lavorare e solo gli tira la passera insomma altro non faremmo che sbatterci e per giunta anche fra noi quando il mercato del cazzo non tira ma a noi si sa che è tutta invidia perché uno c'è ragione come la nostra non c'è nessuno in zona ma per cui è del tutto inutile che quando ci vedono passare a brazzetto o in auto o fermi al semacoro ci gridino dietro beh le splass e ripiuta per rezz è veramente inutile ma perché a noi non ci prega un cazzo della nostra reputazione soprattutto in questo merdaio che è rezz cioè reggio Emilia un buttanaio in cui per malasorti noi si abita e che si vorrebbe vedere distrutto e incendiata ma poi all'enoteca hanno alzato i prezzi hanno cambiato l'arredamento ed è arrivato in giro bene e non siamo più riuscite a vivere ma perché quelli giocavano tutti praticamente ma non c'è nessuno che abbia vent'anni che possa transitarvi liberamente perché qui in provincia è naturale che ora l'abbiamo ripulito perché nessuno si portava che il cuore della propria città venisse così infartato da froci e buttane lesbiche tomò comunque le splas si trovano in attesa di piazza Emilia